Hanno pienamente ragione, hanno pienamente ragione, credo che vada assolutamente soppiantata questa visione ragioneristica della sanità che scontiamo perché siamo in piano di rientro, che scontiamo con una visione che i commissari in alcuni casi in maniera liturgica quasi prendono. Chiara e diretta, Iole Santelli, presidente della Regione Calabria in relazione alla forte preoccupazione manifestata nei giorni scorsi dal management del Marrelli Hospital di Crotone, che ha comunicato che il budget assegnato per il 2020 sta per finire. Conti alla mano, la struttura ha reso noto di aver trattato dal 1 gennaio al 31 agosto scorsi 266 pazienti oncologici non solo del territorio pitagorico, ma anche provenienti dalle altre province calabresi. Tra pochi giorni non potranno essere più accettati nuovi casi. Adesso, ha comunicato il Marrelli, ci sono 38 pazienti in trattamento ed è impossibile dire loro ci fermiamo qui perché il budget è finito e interrompiamo il trattamento. E poi ci sono i pazienti già prenotati che dovrebbero iniziare il ciclo radioterapico a giorni. Il problema è serio e riguarda pazienti che hanno urgente bisogno di fare un trattamento di radioterapia e non possono andare in altri centri, dove le liste di attesa sono sempre troppo lunghe. E comunque, come dice la Santelli. Sospendere i finanziamenti per le radioterapie a Crotone cosa si vuol dire? Non spendere lo stessa cosa perché chi ha bisogno di radioterapia alla fine le avrà a fare. Andrà a farla fuori regione e la Calabria spenderà di più. Questo è il fallimento della politica regionalistica, del commissionamento.